Con Valeriano Nciama al termine di FC Arsignano Valchiampo, Campo d'Arsego, 33esima giornata di campionato. Valeriano, 1-0 per gli ospiti, il risultato finale, ripercorriamo la partita. È stata una partita oggi molto difficile, però approcciata bene. Siamo riusciti ad approcciare bene la partita con l'atteggiamento giusto, giocando, proponendo il nostro gioco. Sappiamo che sarebbe stata una partita difficile, perché Campo d'Arsego è una scuola che gioca, è una scuola difficile. Però abbiamo affrontato a viso aperto, abbiamo mantenuto botta, abbiamo creato le nostre occasioni. Non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, i tre punti. Però siamo rammaricati, siamo delusi dal risultato, ma dobbiamo subito voltare a pagina, cercare di recuperare le forze, cercare di recuperare le forze mentali e fisiche, raggrupparci e da domani, da martedì, andare avanti per preparare la prossima partita. Perché la giocata dopo, la prossima partita, è quella più importante. Oggi è stata giocata e così. Valeriano, avete sempre dato l'anima. Date l'anima in allenamento e in partita. Naturalmente fa male questo risultato, ma come andiamo a Chioggia? Guardiamo appunto al domani e all'ultima giornata di campionato. Sì, innanzitutto, come ho detto prima, bisogna recuperare, perché comunque fa caldo, perché comunque siamo a fine stagione, quindi è importante recuperare tutti i giocatori e quelli che c'erano oggi, recuperarli fisicamente. Martedì prepareremo la partita di Chioggia, sempre mentalmente, sempre sul pezzo mentalmente, come l'abbiamo sempre preparata. Ascolteremo ciò che il mister ha da dirci per gli errori, le cose fatte giuste nella partita di oggi. Cercheremo di imparare per farci trovare pronti domenica prossima. Valeriano, grazie di cuore, buon lavoro. Grazie, grazie mille.